Sì, guarda, d'accordissimo con te, per quello che riguarda la prestazione non c'è mai niente da dire perché i ragazzi di tutte le partite sempre rottate, combattuto fino all'ultimo, sempre usciti con la maglia sudata l'atteggiamento è sempre quello giusto, due volte in vantaggio ma comunque contro una squadra che per alcuni tratti soprattutto nel primo tempo ci ha fatto soffrire parecchio, sono sincero, quindi il punto me lo prendo nonostante il doppio, le due volte in vantaggio, diciamo, una 0-2-1, questo punto però, c'è il rammarico per l'occasione finale non so, l'ultimo secondo sulla linea di botta, quello del grosso rammarico, però il punto ci può stare anche bene diciamo in questa partita, visto che abbiamo incontrato un'ottima taverna che per alcuni tratti nel primo tempo ci ha anche fatto soffrire, anche molto. I dono e Nesti, sì, per essere la prima, sono andati molto, molto bene, molto bene, sia Aglietti che Bernardi noi vado a eccepire, ecco, sì, sì. Il nostro obiettivo primario è la salvezza, perché noi siamo una squadra di amici che veniva da Erasedi a due aveva fatto l'impresa di salire in A1 e l'obiettivo è la salvezza, poi tutto quello che viene in piedi è di guadagnato però con questo atteggiamento confidiamo di raggiungere il nostro obiettivo, prefissato magari con tranquillità che è la salvezza, poi se viene tutto quello che viene in più magari di guadagnato, ecco, l'ottimo principale è salvezza.